Uomini e donne, chi è la donna nell'ultima foto di Sossio Aruta Ecco chi è la donna in compagnia di Sossio Aruta di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, trova sempre il modo per far parlare di sé. A causa delle sue innumerevoli uscite con donne diverse, è quasi sempre seduto al centro dello studio del programma pomeridiano. Le sue relazioni però non vanno mai per le lunghe perché l'ex calciatore, dopo aver baciato, quasi, tutte le donne, decide di interrompere la conoscenza. L'ultimo tentativo di creare una storia risale all'arrivo di Manila. Le cose tra i due non sono andate affatto bene, anzi si sono scontrati pesantemente. Ora la Versigliese ha lasciato la trasmissione in compagnia di Fabrizio, invece Sossio appare ancora sul piccolo schermo. Una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, però, destabilizza i fan. Aruta è in compagnia di una donna, si baciano e sembrano essere molto affiatati. Alcuni fan, attraverso commenti, hanno apprezzato l'uscita di scena del Cavaliere, altri invece pensano si tratti di uno scherzo. . Effettivamente Sossio Aruta ha messo in scena uno scherzo bellissimo. E come una magia, a Natale è arrivato un regalo inaspettato, l'amore. . Io so innamorato ha scritto il Cavaliere del Trono over sul social, alludendo all'inizio di una storia. La misteriosa donna della foto si chiama Antonella, ha 42 anni ed sua sorella. . I due fratelli, nelle foto pubblicate, sembrano fidanzati perché tra loro cè un rapporto speciale. . Sossio è molto legato alla khaki designer, tanto da scrivere di lei nel suo libro dal titolo Io soy un pagliaro. . . . . . . In realtà l'ex calciatore è legato a tutta la sua famiglia in generale. . . Proprio nella sua autobiografia ha voluto mostrare, attraverso alcune foto, tutti i membri della sua famiglia, partendo dalla sua foto da piccolo. . La famiglia di Sossio Aruta di uomini e donne. . Quella di Sossio Aruta è una famiglia numerosa, composta da tre fratelli e una sorella. . Per lui, la madre è stata la sua sveglia, ha sempre avvertito il suo amore e la sua protezione. . Il papà è stato un uomo saggio e sensibile. . Con il fratello Maurizio, invece, Sossio ha avuto un rapporto più intimo, è il fratello che ha vissuto di più rispetto al quartogenito Fabio. . . . . . . . . .